Musica Quindi vogliamo cercare di far ragionare Shiba E poi ecco, cosa facciamo? Ma il messaggio di Kai l'ha letto almeno Neko si sincronizzerà con tutti gli abitanti di Shibuya dall'incrocio pedonale Poi Tsugumi invierà a loro una visione della cima del 104 per risvegliare E oh eccola, ed è senza occhi rossi A quel punto le loro menti saranno pronte per Nagi Quando le avrà in vase, Fred potrà risvegliare i ricordi di tutta la città Andata, e noi che cosa faremo? Siamo di supporto? Ai rumori ci pensano i demoni, giusto? Sì, e quando avremo Shibuya dalla nostra parte, ci divideremo e vedremo cosa fare sul momento Questo piano sembra richiedere un miracolo E facciamolo questo miracolo, Shibuya è fritta Tutta la città conta su di noi Proprio così Cioè? Figurati, è stato un piacere Ci tenevo a ringraziarti ora che posso ancora farlo Se non fosse stata per l'account che mi hai creato Ah ok, che l'ha creato lei in quanto demone e ha potuto giocare Ok, non so, sarei ancora sola e senza amici Ma adesso è ok Sono felice per te Sono felicissimo che hai imparato ad aprirti Ci provo Mi hai sempre dato l'impressione di essere molto sola Eri Fredda con gli altri Volevo aiutarti Mi sono detto, se hai tante difficoltà a comunicar di persona Perché non provare online? A quanto pare ha funzionato Oh A proposito Se verrai ammessa tra i demoni Potrò restituirti l'account di Swallow Grazie, ma anche no Grazie Sei sicuro? Sì Ora, diamoci dentro Oh, vuol dire che vuole rimanere umana Eeeh, sai cosa ti dico? Faccio un giro di rumori Mi svuoto lo stomaco Lo riempio per l'ultima volta Prima della battaglia finale Pancia completamente vuota Andiamo a mangiare Perfetto E con questo Beat e Rindo 500 di difesa 500 di attacco Beat a questo punto è superiore a tutti quanti Perché è l'unico con le statistiche già maxate A parte lo stile Che arrivato a questo punto Ci serve relativamente a nulla Quindi ora punterei Ai PF di Rindo E allo stile di Beat Perché è l'unica cosa rimasta Se non fosse che in questo posto Purtroppo DHP te lo danno solo Questi cibi qua Che a noi non servono Il biscotto vi piace? Solo un ecco indietro Ma... E allora C'era un meme Qualche tempo fa Che avevo visto in giro Boss fight Potentissimo Capace di distruggere il mondo Quando si unisce al party Palla di fuoco Va bene Direi che siamo pronti Per la battaglia finale Oh sequenza animata Perfetto Eh già Shiba E tu? Non per menzionare La squadra morta Stando dietro Perfetto We need your help Please Is that really you in there? No of course She is ever been Someone sealed her soul Inside that doll And now she is finally free Ok non era sotto Sotto il sortileggio Di shiba Almeno questo Il suo nome è Kubo. Do you remember? Kubo? He's a player. No, a reaper. Was a reaper, but he got erased. What did he do? He gave you new powers. Named you the Executor. Hang on. How do you know about all that? And moreover, why is it that I can't remember? Because Kubo was exercised in the future. Exercised? Removed from existence entirely. From the UG, the RG, even from your memories. Ah, ok, è un cancellamento superiore addirittura. Kubo may be gone, but his rules are still in play. He's made sure this game will end in total chaos. And why should I believe you? Because I was one of his pawns too. He used us to erase Shibuya. Which is precisely what I desire as well. No, you don't. I've seen the future and you don't survive. You get swallowed up by the noise just like he planned. He used you to erase Shinjuku. That's the reason Kubo approached you in the first place. I have reason to believe he may have been an angel sent to destroy the city. An angel? Assuming he was, everything begins to make sense. He hid among the shadows, granting you the powers that would help him erase Shinjuku. Ok, e qua stiamo rivivendo tutta la storia fino ad ora. Dè, Kai e no, dai. Eh già. He's been holding for three, four years. Damn. He ain't really much of a people person. Never has been. You left your friends behind and your single-minded lust for power. What are you talking about? You left me behind. I may have. You did. And the rest followed. Eh, per culpa tu abercó, però. I heard their hearts crying out in pain. Kaie, Suzuki-chi, Ayano and Shoka. Even Hishima. None of them could bear to look at the monster you'd become. And ever since you received those new powers, you shut me out. You stopped listening. Well, can you blame me? You kept showing me those depressing visions. I couldn't let myself get distracted by them. Then allow me to show you the truth you've been ignoring. The hour of reckoning is drawing near. Just once, I need you to see what cruel fate awaits us. All of us. That means you too. I know. I live through it. Shiba, open your heart to me. Shiba, open your heart to me. Shiba, open your heart to me. I'm contento che comunque il cattivo finale, che tutti si pensava fosse finale alla fine era solo una scusante. Comunque è un colpo di scena telefonato, ma che fa sempre piacere da vedere. What is that bird? It's an enormous amalgam of noise. One that grows stronger whenever I turn back time. Kubo, set a timer. And when it runs out, the noise will emerge from this pin to devour us all. We have to stop it. But we're going to need your help. And what pray tell will become of my game? Is that all you can think of in our hour? You misunderstand. I'll gladly help you take care of the noise created by this Kubo. My concern lies with what happens after the battle is won. Fine. If it's a fight you want, then I'm game. Then it's time for a pestilent resurgence. You mean... The plague. It eats through planar boundaries. That noise will be nothing. Besides, that abhorrent angel was kind enough to bless me with these powers. Shouldn't let him burn a hole in my pocket. Thank you. Seriously, thanks. But if we are to stand a chance, we'll need to turn the heat up higher than ever before. Eh già, immaginavo. Dobbiamo risringare Shibuya. Sì, subimi. Lendami a hand. La traduzione era... Non sentivo una febbre del genere, però. Burn this game to the ground. Sette tra le mani. Spara fino a tre attacchi folgoranti al bersaglio e ai nemici circostanti. L'attacco diventa a catena se ci sono nemici vicino. Ah, è una quadra... Non so perché ho visto un triangolo io. Ce l'avevo già però questa spilla. Mi sembra di averla già vista. No, forse era una simile delle tante. Però ti direi che non è neanche orribile. Allora, aspetta un attimo. È più forte ovviamente di quella che hai tu. Però 14 secondi. Questa quanto ci impiegava? 14 secondi. Però 16 colpi. Tutte le cavallo del re sparano fulmini che si concatenano. La fantasia del cavallo del re, signori. Preferisco avere questo così abbiamo più possibilità di curarci. Per il momento. Poi... Ah, siamo sul te. Davvero, lo sapevo però. Non mi aspettavo che già mi ci teletrasportasse. Dio è disposto. Just breathe. Abbiamo questo, boss. Sono tutti fulgati. Cuidate di Tugami. Sì, amico? Spero di rinforzare il risultato della sua psichia. Tu solo si concentrano a ascoltare le loro voci. Grazie. Grazie, Hishima. Spero di sicuro che i loro chiedi sono sentiti. Tu puoi contare a me. E poi rinforzo a Ryan. Ha, 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 ha. Lo sapevo bene. Ha, ha, ha. Poverina. Non è vero che venne all'inizio qui qui, io. Guardatevi. All ready to save the city and shit. Aren't you proud of me? I'd be prouder if I wasn't so worried about you. I know, I know. But see, I made it. Safe and sound. All that worrying for nothing. Hey, can it, phones? Wait, is Neku here too? Yep. I guess you're still in between worlds. While Neku's been completely confined to the UG. Hmm. Rhyme, sorry for the wait. È Shiki? No problem, Shiki, you're just in time. Oh, Beat, sono già innamorato. Mi ho sempre adorato una Shiki originale piuttosto che Shiki finta. Oh, wait. È qui, non è? Che bella che è lei. Yep, right over there. You mean, you can see him? See him, talk to him, smack him on the head if I want. You finally came back to us. I knew you would. Neku, I don't know if you can see me right now. But I'm so glad you're here. Shiki. I can see you just fine. And soon, you'll be able to see me too. Yeah, bello. Uh, you want me to translate, yo? Don't worry about it. Heh. We'll see each other later. Oh, I just got a message from Kaiei. Everyone, sync up with Neku's consciousness. Lend him your strength. Been doing it for years, yo. Becketela. Aspetta. Becketela, Neku. We should be fine, theoretically. But it's a lot of stress on Neku. I'm worried about him. Don't be. Said he'll be fine, yo. Tell him he'd better be. Commence Operation Awakening. Activated. Io ancora però devo capire il rapporto fra Cocco e Minamimoto. C'è... C'è il rapporto, l'ok, ma devo capirlo qual è effettivamente. Now! Sembra un taglio alla Persona 5 quando fanno l'attacco speciale. Oh, che bello! Bravo! E tu hai ancora un lungo passaggio per andare. C'è un po' più difficile, ok? Eh, eh. Non ho mai pensato che questo sarebbe stato detto. Ma penso che è il momento per me di andare a lavorare. Eh, può qualcuno raccontare come ho scoperto in questo freddo? Oh, questo è, come, letteralmente, il peggio. Sento che sono irresistibilmente adorabile, ma non puoi tutti solo buzzerci? Ora arriva a Minamimoto e lo sapevo. Minamotto! Minamoto! 07734. Eww. Ehi, non solo spattare i numeri e scappare fuori, uccidio! Qualcuno, per quanto riguarda il suo lavoro. Tu devi fare il tuo anche, Neku. Ehi, sei buoni, Bones? Neku? Cosa sta succedendo? Tutto bene? Si. Dicare che sia bene. Dicare che sia bene. Dicare che sia bene. Eh, non abbiamo ancora più tempo. Dicare che sia bene. Dicare una mano qui, partner? Dicare che è arrivato alla fine. Sì. È arrivato! Noi non mi ha invitato a questa riunione, quindi mi ha invitato a me. Dicare che è bello! Questo è davvero un'imprezibile schemma che hai dovuto. Ho spero che non mi piace se guarda e guarda. Non almeno, partner. Ok, preparate, ragazzi. Dicare che sia bene. La giornata addirittura è quasi su noi. Cosa succede dopo? Dipende tutto da voi. Ah, strano. Che bello che è, Joshua. C'è un distrutto. C'è un desestless. Dott's stream into my head. One after the other. Fear and foul alike. Whoa, are you okay? Stay strong, Nagi! It appears she's predisposed to absorbing negative imagination. Uh-huh. I feel fine. Oh, che cosa ha fatto? Che bravo! Gli ha tolto la depressione di tutti, in pratica. It's your time! Ricordate tutti! Dai! Una scena solo per Fred, non ci credo. Ah, ok, ha già anche lei. Una scena per tutti. C'è tempo per una ricerca. Sei pronta, Shibuya? Dai, Fred che è al centro di tutto, però è incredibile. Ehi, non sono più depresso. Non so perché in questo momento ci starebbe da dire una musica alla Kingdom Hearts. Ho i brividi solo a pensarci a Kingdom Hearts 8. Ho giù la pelle d'oca a pensarci, incredibile. Ha funzionato? Yo, Rindo! Beat! Neku! Buon lavoro qui, ragazzi! No, 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 no. La città non più suona è niente. Le parole di persone sono tornando alla crossa. Huh, sembra che Shibuya si sembra già un po' meglio da loro. Ma Joshua che cosa ha fatto in tutto questo momento adesso lo sopporto morale? Vado a mostrargli cosa è fatto da Shibuya. Sì, ogni minuto ora. Sei sicuro che possiamo venire? Dobbiamo. Eccola qua. Eccola qua. Sì, è l'unica cosa che pensa Beat è una cazzata incredibile come al solito. Ma cosa sta? Cosa sta? Si sembra che si stanno combattendo o qualcosa. Ed in manscuendo tutto? Più, piu, 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 piu! Più, piu, 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 piu! Le bambine spezia un tempo la stessa sta cercando di avere矰anti, ma Shibuya sta davvero рубire. Non, ma è sufficiente per dimostiare una buona attenzione. Ehi, è la mia spilla quella! figa la pioggia di fuoco addirittura è esatto è un'aquila no essendo fuoco è una fenice vero bella bella sta scena io quanto ci vuole questo caricamento va bene che la battaglia è finale però allora come estetica mi piace è proprio bello ok degli orb hanno due colori diversi dite che sono deboli a determinati elementi ok questo è elettrico forse l'altro è da uah dio mio ok questo è andato putta nega da dove è uscito sto tornato oscuro siamo già quasi a metà vita quello elettrico è sempre fastidioso ok l'altro scappa naghi scappa sembra che stiamo andando bene non sbaglio comunque mi sa che al 100% non ci si arriva al 200% ci si arriva già difficilmente al 300% la vedo molto dura però ce la siamo cavata alla grande brava naghi che ha ricaricato 200 punti vita non posso targettarla e cercate di evitarla ragazzi evitate i colpi per favore non voglio morire per le vostre strozzate ok non mi posso neanche avvicinare questa è solo fase di schivata e di nuovo mi ha urlato contro ragazzi evitate il colpo per favore mi ha bruciato la coda povera shoka devo stare lontano dagli altri perché se no finisco e coltisco anche loro ma aspetta forse devo avvicinarmi perché io continuavo a correre e io continuavo a correre pensando che fosse una fase non targettabile e io scappavo di lato a lato pensavo fosse una fase apposta ma è un pollo è un pollo gigante guardalo devo di nuovo combattere le code e mi sento sai che forse non ne ho bisogno mi ricorda molto Kino Mars 2 quando combattiamo forza naggi Ce la puoi fare Mi dispiace dirtelo ma in questa battaglia Sei stata la più inutile Sei stata la più inutile perché avevo un attacco a corto raggio Mentre lui era in alto Però un colpo siamo riusciti a tiragliolo qua dritto in faccia Eh esatto Mi sembra un po' troppo comodo Ne hai dubito Secondo me c'è ancora qualcosa È stato troppo semplice Esatto È come quando abbiamo combattuto Shiba al primo giro Ovviamente è una fenice E rinasce dalle proprie ceneri Ma è più luminosa di prima o sbaglio? È un morto? Non penso così Alla buongiorno eh No dai Non mi dire che è l'ultima fase Dobbiamo solo colpirla gruvata in faccia Che bello poter usare Shocker che ballicchia in giro 300% È un morto? Non è ancora Non è ancora Non è ancora Non è ancora Grooviamogliel La fascia È stato tutto inutile? No qualcosa gli stiamo colpendo Abbiamo colpito una coda For turning back time For turning back time What are you talking about, Rin, dude? None of us would even be here if it weren't for you Yeah, da me... Yeah, da me... Non so cosa devo colpire Ok, di nuovo la sequenza in cui dobbiamo schivare Mi fa piacere che hanno messo Una sequenza in cui Puoi ricaricarti il groove Facile facile Dai, 300% Più che altro è stato inutile il primo Perché non è... Non potevi farlo più forte Dai, tirati su Nagy Ancora nulla No Via da lì Perfetto Ora la faccia è libera, vero? Dobbiamo solo arrivarci La faccia Qualche più ma ancora c'è in realtà, eh Porca puttana Ok Ce la siamo vista brutta qui Se mi avesse colpito ancora Sarebbe stata dura Ok, ancora Ok, ancora Ok, ancora È stata la decisione migliore Non togliere Quella che cura Non so come avrei fatto Senza quella... Queste spille qua Non so cosa avrei fatto Se non avessimo ottenuto quelle spille Fine? Basta? Non ci sono più piume ora Non ci sono più piume ora Meno male che Nagy ogni tanto ci cura Non vedo Non vedo No, vabbè Io colpisco Tanto abbiamo il groove Ma mi sa che non lo stiamo colpendo Vero? Dai Era targettabile Che palle No, in realtà Qualche colpo L'abbiamo L'abbiamo dato Forse dovevo aspettare Che si raddrizzava Non lo so No, forse ancora Qualche piuma C'è da Lo immaginavo Oh, per fortuna Avendo fatto il groove Almeno Abbiamo ricaricato la vita Almeno quello Dai, dai, dai No E che palle Dai, volevo usare il groove 300% Per sfondarti la faccia Me lo fai fare di nuovo? Me lo fai ricaricare? No, di nuovo Sta parte qui No Questa volta col cazzo Che schiviamo Scappiamo e basta Più che altro Che non so dove sono I confini Della mappa Quando Quando cerchiamo Di scappare Eh, stavolta Col cazzo Che mi hai preso Devo essere sincero Che non è Non è difficile Su l'ultima fase Rimani lì, eh Sai che mi sa che il groove Non serve a niente Se non per curarti No, in realtà sai cosa Gli arrivano i colpi È solo che è molto lontano Cioè, noi siamo qua Lui è qua in fondo Dai, l'ultimo colpo Assieme così Tutto assieme Eh sì Ah, devo Scusami Ero preso bene Dalla scena io Sì Quanto 1000% Ti prego 9-9-9-9 9-9-9 Absolute Bello No, si è spento Il pollo Avremmo preso la spilla Ti prego Questo è molto più lungo di Chita Ninja Cioè come combattimento Proprio a livello di tempistica Di difficoltà Chita Ninja Al primo impatto secondo me Chita Ninja È molto peggio Abbiamo messo 11 minuti davvero Vabbè Yes spilla ottenuta Tanto è sicuramente una catena Non mi aspetto di meno 11 minuti eh Abbastanza E Shiba? Dov'è? La parte finale che faccio a tutti la Kamehameha Mi è piaciuta un sacco No grazie a tutti Eh esatto Eh esatto Dai Un'ultima battaglia Un'ultimo giro di botte Sto a dire che ero calcata per la nostra finale showdown E posso solo parlare per me stesso qui Lo sai bravo Ma non sono capace per combattere a questo punto Sono tutta Tutto Tutto E me e me Tecnicamente Tecnicamente Mi hai giocato una volta Ma non c'è tanto Che 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 c'è tanto Let's just call it a draw This time I hadn't given much thought to what to do in this situation But I suppose that means it's game over In other words We're done here, everyone Just like that It's so We're supposed to do Go home Back to the RG Toss that pin and you're all set You'll be home before you know it Che tra l'altro è tornata normale No, sto bene così Perché lei farà questo? O che altrimenti dovrebbe andare se non tornare a Shinjuku con noi? Volevo a RG con noi? Non potrebbe anche se voglia È una delle nostre regole in Shinjuku No, una volta che sei distrutto dal tuo titolo come reaper Sei fuori per bene Quindi aspettate E quando il gioco finalmente riuscirà la conclusione Ti confronti a Erasure Che? Esatto È la regola Lei conosceva cosa stava facendo quando si unisce la tua squadra È vero? Se vuoi riuscire a riuscire ai reaperi E io ti darò fino al fine del giorno La decisione è tua Che cosa brutta Sparire oppure tornare a fare il lavoro di prima È esatto È esatto Mi ha scoperto Oh no Oh no You told me right before I turn back time You've been there for me longer than I realized I get that the game has to end But our friendship doesn't have to Well, you got me in my big mouth Listen, Rindo If I return to the Reapers I'll be stuck playing that dumb game forever And I won't be able to see you Not in person at least And that would really suck It's been fun And I'm glad we got to talk like this You make a pretty good partner Joshua Parting is such sweet sorrow Bravo Joshua Ti voglio bene Appari nel momento del bisogno Hehehe The name's Yoshiya Kiryu But mother and father call me Joshua I suppose you can call me Joshua too Uh, can we help you? No, but perhaps I can help you You may not know this But I'm Shibuya's composer Wait, the composer? So you write music or something? He's like, the game master's master's master Let's say we celebrate this chance encounter With a little game What kind of game? Eh, esatto Shouka! What did you do to her? I put her back on the street With the other stray cats Find her and you win She could be anywhere Good luck finding that anywhere Rindo Joshua, sei sempre un pezzo di merda tu Sei sempre uno stronzo Ma ti vogliamo bene Shibuya Chapter Closed Quindi è così L'ultimo gioco Trova Sciocca Non so perché mi sa tanto di crediti questa parte Ma ti voglio dire che ho avuto una lunga vacazione dopo questo Sì, un'iris, come una verità di merda E tu non sei l'unica, che ha vissza il loro azzalto Potremmo avuto una buona promozione per me Se avessi attrappati tutti i punti che ho avuto Eh, anche tu puoi imparare l'autore, matthi man. Gli ho dicono, sono davanti a te volerci al team. Non provo a me integrare con te garbage Reapers. Scusa te, chi ti chiamano garbage, tu overgrown adolescente? Sono cercando di solare un sistema più grande di equazioni qui. Queste Shinjuku Reapers non fatti nella mia calcolazione, but they did help reveal a hidden variable the composer time to run some figures is that number cruncher really trying to become the next composer if so he should work on his delivery less math for starters best to just let him do his thing girl actually i'd hike he prefer if he like didn't do his own thing Io sono il suo capo Ok, e finalmente abbiamo questa cosa Sì, ma perché l'hai riportata in vita? Questa, quale è il tuo motivo? Ma è sufficiente di chit-chat, è il momento di tornare a lavoro Vuoi una ciotola di ramen? Se solo All'azienda difficile e niente per mostrarlo, ma un'attuale attenzione Penso che è il tempo che ho fatto una vacanza Come è la ciotola di ramen per rinforzare le cose? Lo sapevo Tuo trattamento? Mi piacere Lo sapevo Ma mettetevi assieme e fate un figlio demonietto Duh I didn't trust that reaper Although, I did worry dealing with the Executor might have been too tall in order You mean that Kubo guy? Indeed, I had vowed to intervene if things took a turn for the worse But you all seem to handle things on your own just fine Hey, Josh Yes? Yes? Can I go home now? To the RG? You mean you don't have your sights set on staying here, becoming composer? Can't say that I do Haha, your loss Very well then One good turn deserves another, as they say Bravo Let's not keep waiting any longer Dai Sei bravo la fine Joshua adulto però dai, ci sta Adulto Cresciuto dai Oh, Shiba Where are you going? Tsugumi The Shibuya Reaper said they would let us stay Aren't you going to take them up on their offer? No, I'm going back But why? Because it burns me up getting played like that I can't let that be my legacy Oh, che bravo Allora vengo con te I chose to bring about Shinjuku's destruction It's only fair that I then take responsibility for the decision I made And to that end I suppose I also owe a few folks an apology In that case Is it alright if I go with you? What? Don't you prefer it here? I admit it isn't bad But there's no place like home, right? And if you're going to restore things to the way they were Then I want to help You're too kind Allow me to join you Oh, no one knows quite how to snuff out my flame like you, old friend Care to stomp on my embers too, while you're at it? And sully the soles of my shoes? I think not You've chosen to run from the city you once ruled I needn't embarrass you further That said, if you seek to restore Shinjuku to his former glory, then I cannot stand idly by Nor can I Yeah I got data on Shinjuku That should help us start rebooting the city Well, I suppose I could use the company A simple word of thanks would have sufficed You'll get your thanks once you've earned it Thanks for everything Shibuya See you again someday Eh, vediamo Yo, Rhyme Why you ain't gone home yet? Come on, let me live a little, Beat All study and no play makes Rhyme an overworked girl Not to mention how worried I was when you disappeared I spent all my waking hours trying to find you and all my not waking hours asleep at my PC Do you think I deserve to take a load off for once? I don't see no load around here But you're right Gotta have some fun once in a while, yo Hey, Beat What's up, Shiki? Any luck? Not yet I don't think he's back yet Don't sweat Phones is a man of his word, yo He'll be back in no time And if he ain't Then I'm gonna give Prisket a piece of my mind Josh, better watch out I'm sure Neku's fine But I still worry Ovviamente I guess I just need to see him with my own eyes You know? Yeah, I feel you But hey, you'll know him when you see him Eh, be Hey there Hello Sure is some lovely weather we're having, isn't it? It sure is I hate to spend such a nice day all by myself Beh, mi spiace, ma ti tocca Excuse me a sec, yo Oh, okay But don't start any trouble Any minute now Right? He should be able to spot me Thanks to this little guy Every morning I tell myself Today will be the day But I'm always wrong Not this time Not today Right What a beautiful Neku Hey Sorry it took me so long Sorry it took me so long It's okay Waiting wasn't so bad All that matters is that you're here now Thanks I'm so happy you're back, Neku Me too I'm so happy you're here now I'm so happy you're here now Yeah Yeah The canon But I'm so happy you're here now I'm so happy you're here now And now I'm so happy you're here now You know You sound invested Enough to keep playing a little more And enough to satisfy boss She wants a progress report Or forth Practice, she says As I said, Lord Tosai Illustra is more than a mere game Tis a veritable tone of truths About the nature of human communication One that teaches us serenity In the face of an overzealous opponent Or perseverance In the face of an onslaught of abandonment Haha Guess she thinks it'll help make me a better communicator Let's hope Well I'm stuffed Catch you tomorrow? Sounds good Hmm? Hey, there's a cactuar on the crossing Guess I'd better go catch it before it runs off Ma scusami Ma tu non dovevi cercare sciocca Brutto coglione And got him I would message you But you've been offline for over a month Ah, ok È passato un mese Allora ha senso così And I haven't seen you since that guy made you disappear Haven't even heard from you The game's been over for weeks now And the only trace left of you is this old account You don't even show up in my contacts anymore I just want to talk like we used to But there's no way to reach you There's so much I wanted to say Tipo And now I'll never get the chance to tell you any of it Ma sì, la città è grande, non è infinita, eh Tanto adesso la vede, sicuro, quindi non Non ti preoccupare Miau Esatto, toglietevi dalla strada Oh, still adjusting to life on the other side Normally I'd just pass right through people You're here The RG In the flesh You know, another new adjustment Guess I'm a bit of a slow learner The hell You should have said something I could have helped Yeah, you could have helped By not ignoring my friend request I got locked out of my accounts Including my alt And I made a new one so we could be friends But somebody didn't check his inbox No way My bad Seriously? Oh, shit Unfortunately, I'm back at level one So lend me a hand, okay? What? No, it's nothing Got a nutkin that I can give you Oh, sweet Dai Ditevelo, su What? We're finally friends Dai Potevi dire di meglio Porca troia Sono io che mi aspetto troppo Siete voi che siete troppo abunisti Bastardi tutti voi Friends Molto finale di Kingdom Hearts 2 Allora Non voglio mentire Mi è piaciuto Mi è piaciuto Manca ancora ovviamente La Another Day Perché siamo chiari E mancano ovviamente I report segreti Ci sono stati dei pezzi Che però non ho sopportato Tipo Ed è la stessa cosa che ho odiato Di centro reboot Questo Puntare totalmente A questo Io Bella Tutto sto giovanile Oh Gesù Ma in questo gioco Lo accetto ancora molto Perché Diciamo che anche Il primo gioco The World and With You Era tutto ambientato Nell'epoca che era ambientato Quindi erano tutto un po' Il rapper Il gotico L'emo Queste cose qua Ci stava Questo invece C'è più nell'epoca attuale Ci sto Che abbiano voluto Mantennere questa linearità Però davvero Dover puntare Per forza Questi concetti Il Pokemon Go Di questo gioco E il gioco Tematico D'amore Di questo gioco E il Il ragazzo E bella Frate E io Queste cose qua Le detesto Quando Quando sono Per forza Elemento fondamentale Di un personaggio Finché fanno parte Di un insieme Ce l'ho accontento Così spinto Mi sta un po' Un po' Troppo Bello il fatto Che alla fine Joshua sia apparso Non che mi aspettassi Di meno Ovviamente Il tizio che è apparso Per far ritornare Rindo Indietro del tempo È sicuramente Il compositore Di Shinjuku Kubo è stato Un bel personaggio Molto Lo immaginavo Ma ovviamente Uno non se l'aspetta Fino alla fine Che lui sia Il vero cattivo Diciamo E A livello Di boss fight Non mi sono dispiaciute Soprattutto L'ultima era carina Molto semplici Però a un certo punto Cioè Shiba L'abbiamo devastato Questo Non siamo morti Neanche una volta Minamimoto È stato difficile Non voglio negare Che Minamimoto Nel momento In cui eravamo lì Probabilmente Perché avevo abbassato Troppo il livello Forse perché appunto Non me l'aspettavo È stato difficile È stato forse La boss fight Più difficile Nell'insieme Perché non mi aspettavo Quel combattimento In quel momento Alcuni personaggi Secondari Ci stavano Per esempio Su Kichi Mi è piaciuto Come personaggio Secondario Ishma Ci stava Anche se è apparso Molto alla fine Queste cose qua L'amica di Shoka Diciamo che non è Che l'hanno presentata Chissà quanto Quindi non è Che ti dispiace Neanche troppo Quando crepa Su Kichi Come ho detto Bello Sugumi Ok Ci stava Mi è piaciuto Il collegamento Fra lei E il gioco precedente Il punto È che non ho Veramente Capito Io magari Sono stupido Ma non ho capito Veramente Il personaggio Di Coco Non ho capito Perché lei Ci sia Né tantomeno Perché abbia Portato in vita Minamimoto L'ho portata in vita Perché così Mi dia un favore Ok grazie Ma Comunque Sti crediti finali Belli Che hanno fatto Vedere spezzoli Tutte le varie scene Carino Ed eccoli qua Loro due Che si sono rincontrati E odio Quando in questi giochi Non usano La parola Amore Ma usa la parola Amico Li detesto Rendetelo più palese Dai È palese Che Frette Naki Si sono messi assieme Shoka E lei E lui Si sono messi assieme Andatevene Affanculo Tutti The world begins With you Anche qua Ovviamente Vi voglio bene Gioco Completato Hanno cambiato Lo sfondo Dietro Ed è apparso Anche Neiku Oh Congratulazioni Per aver completato Il gioco Avrai anche finito La storia Ma la tua collezione È completa Esplora fino a fondo Ogni giorno Per trovare Il report segreti Chissà quale sorpresa Ti attenderà Una volta Che li avrai trovati Tutti Nel finale Segreto Del gioco Oh E non dimenticarti Di Another day Uno speciale Storie secondarie Ambientate in un universo Alternativo Ovviamente Beh Ci manca Da trovare I maialetti Più che altro Non so Me lo indica Dove sono i report segreti Immagino di no Immagino che ogni giorno Ci sia un report segreto Immagino di no